adesso siamo proprio nel cuore delle cantine di san flaviano nel nome del riso grande ma le cantine ci sono eccola qua e ci sono le botti e stiamo con guido orsini che il titolare colui che ha avuto questa bella iniziativa di creare questo ristorante come nacque l'idea l'idea è nata perché dopo atto anni di vita in salento ho sempre avuto la passione per la cucina e quindi è capitata l'occasione di affittare questo luogo per la storia che il luogo racconta e per la storia che ho vissuto ho ritenuto che fosse il compimento dei miei sogni tra l'altro io sono nato qui a fianco la mia famiglia da sempre ha avuto una cantina poi tralasciata negli anni dalle generazioni successive e quindi è stata come di l'occasione di ripartire da un punto che fa parte della nostra storia allora dice il professor malafronte che qua insomma di vini tutti speciali tutti sì di grande qualità abbiamo cercato di fare una carta vini partendo innanzitutto dalla nostra regione e cercando di selezionare vini che sono poco conosciuti ma ognuno di essi ha una particolarità o per la storia del vino oppure perché l'enologo ha deciso di intraprendere una strada un po briosa nel realizzare il vino stesso che c'è qui ho tutte queste botti veramente proprio siamo nel luogo del desiderio del vino una quali ce ne sono mi pare che diceva la franta sette botti abbiamo sette botti però stiamo abbracciando la numero uno che ha una particolarità che la puoi indicare vuoi perché si sta proprio in mezzo a due pilastri di giuria nuova il dottor marcozzi e il signor orsini cosa vorrebbe significare e io penso che atto dovuto ce le deve spiegare il padrone di casa perché è un orgoglio è un orgoglio personale un orgoglio si 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 è il mio francese prego allora cos'è allora questo colore che vedete sulle botti è un codone che viene dato da un'azione che si chiama foccatura delle travi che serve a evitare la contaminazione degli agenti esterni con il vino la botte è un contenitore che permette al vino di maturare quando si fa la foccatura se da esce il volto di un elfo vuol dire che quella botte produrrà sempre il vino buono se ci allontaniamo un pochino al centro noteremo il volto di un elfo per questo motivo è stato dato il numero uno e da sempre questa è stata considerata la botte che non era uno veramente tutti i sensi e l'elfo soprattutto in qualità in qualità quindi qua sotto si mangia si beve allegri si sta naturalmente si parte abbiamo detto noi andiamo con questa intervista domani e quindi mercoledì mercoledì ore 18 per l'aperitivo una prima cena con sapori di pesce dell'adriatico rivisitati con l'esperienza salentina e poi perché ha piacere di tratte intrattenersi in terrazza cocktail offerti dalla cantine san fradiano perfetto a domani allora